I giovani Umbri nel 2009 L'amicizia è anche quel valore Il cui rievo è più cresciuto nel tempo La risorsa amicizia si è rivelata molto importante Anche per i nostri giovani intervistati In una scala da 0 a 10 Un valore come l'amicizia Ottiene un punteggio pari a 9,9 Preceduto dalla famiglia che ottiene il 9,48 Ancora più importante Si rileva la risorsa amicizia Nell'ambito di una società complessa Caratterizzata da discontinuità Incertezza, frammentazione La costruzione identitaria Non avviene più in riferimento A contesti generali Quali istituzioni e partiti Ma ad una molteplicità di relazioni personali Dirette e quotidiane Fratelli e sorelle Mi trovo d'accordo in parte E in parte no con questa affermazione Non sono d'accordo con quella parte di discorso Che mi pare un po' nostalgica del passato E che afferma che nel passato I giovani umbri Trovassero la loro identità Grazie alle istituzioni e ai partiti Ma allo stesso tempo Mi trovo d'accordo con l'affermazione Che oggi pare un valore molto forte L'ho costato anch'io Che è vero L'amicizia Soprattutto tra i giovani Quante volte i genitori mi vengono a dire Mio figlio, mia figlia Dai il meglio di sé con gli amici Non è mai senza contatti con gli amici O a tavola con un messaggio Che quando i genitori permettono di portare il cellulare anche a tavola Oppure nelle ore serali Quando i figli non escono d'inverno Tramite il computer E invece danno il peggio di sé Con i genitori e nelle istituzioni in genere Chiaramente qui c'è una situazione da analizzare Ma intanto prendiamone il buono E cioè la grande importanza che ha l'amicizia Nella società contemporanea Per i nostri giovani e per tutti noi Cosa ne dice la Bibbia dell'amicizia? Partiamo Non partiamo anzi Dal famoso detto del libro del Siracide Conosciuto da tutti Che afferma Che chi trova un amico trova un tesoro Nel vostro foglio per approfondimento Potrete anche segnarvi Questo versetto nella Bibbia Sottolinearlo Ma partiamo invece E intanto vi invito a trovare Il primo libro di Samuele Al capitolo 18 Partiamo invece dalla storia Di due amici Due amici che secondo la logica umana Non avrebbero dovuto esserlo Perché totalmente diversi tra di loro Uno Davide Figlio di un pastore Ultimo genito della sua famiglia L'altro Gionata Figlio del re Saul Gionata che avrebbe dovuto essere Destinato al trono E invece Davide Che diventerà re al posto di Gionata E Gionata che sarà già morto Quando questo accadrà Che comunque glielo augura Fin dal tempo in cui si sono conosciuti Quindi là dove avrebbe dovuto esserci Discordia Gelosia Invidia Invece c'è amicizia Sentite cosa dice il primo libro di Samuele Al capitolo 18 A proposito della amicizia Tra Davide e Gionata Sicuramente una delle più belle Di tutta la Bibbia Quando Davide Davide Ebbe finito di parlare con Saul La vita di Gionata Sarà legata Alla vita di Davide E Gionata lo amò Come se stesso È una bellissima definizione E amicizia La vita dell'uno Si era legata Alla vita dell'altro E Gionata lo amò Come se stesso Ancora Qualche anno dopo Gionata va in battaglia con Saul Muore sia Saul che Gionata Un uomo porta la notizia a Davide E Davide Fa il suo lamento E nel suo lamento dice E siamo Al secondo libro di Samuele Capitolo 1 Versetti 26 Secondo libro Capitolo 1 Secondo libro di Samuele Capitolo 1 Versetto 26 Sentite Il lamento di Davide Per la morte Di Gionata Una grande pena Una grande pena Ho per te Fratello mio Gionata Tu mi eri molto caro La tua amicizia Era per me preziosa Più che amore di donna Ecco è molto forte Questa espressione La tua amicizia La tua amicizia era per me preziosa Più che amore di donna Il Nuovo Testamento Grazie a Gesù questa verità è ancora più forte Prendiamo per esempio Paolo E prendiamo in considerazione la parola Fratelli Paolo Se noi prendiamo le sue lettere Ci aggiungiamo le lettere degli altri apostoli Che sono nella Bibbia Ma comunque escludendo i Vangeli E gli Atti degli Apostoli La parola Fratelli nella Bibbia In questa parte di Bibbia Delle lettere degli scritti Dell'Apocrisse Compare 139 volte 139 volte Parlando agli altri Un apostolo li chiama Fratelli E mai In una relazione di San Sono sempre fratelli Ma non fratelli di San Ecco I cristiani Sono più che amici Sono fratelli Com'è possibile però Che due persone siano fratelli O sorelle Se tra loro Non scorre lo stesso sangue Il motivo è questo qui E' che noi Siamo uniti a Gesù E in quanto Uniti a Gesù Siamo uniti A tutti coloro Che sono uniti A lui E' come se in noi scorre Il sangue Il sangue di Gesù Faccio un esempio Che renderà la cosa Molto più semplice Da comprendere E' l'esempio Di moglie E marito Sono fratelli E molto più Che fratelli Eppure tra di loro Non scorre Lo stesso sangue Com'è possibile che due persone Nel quale non scorre lo stesso sangue Si sentano così unite Da essere fratelli E più che fratelli La unite L'amore L'amore è capace Di rendere fratelli Due persone Che non lo sono E più che fratelli Marito e moglie Una carne sola Ecco Lo Spirito Santo L'amore di Dio Che è stato riversato Nei nostri cuori Ci rende Fratelli E più che fratelli Direbbe San Paolo Lo Spirito Santo E' stato riversato Nei nostri cuori L'amore di Dio E' stato riversato Nei nostri cuori E siamo diventati fratelli Più che fratelli Chi Non ha fatto l'esperienza Di scoprire nella propria vita Che il giorno in cui Gesù l'ha invaso Con il suo amore In qualche modo Il suo rapporto Con gli altri Non è cambiato Magari prima Parlava male di Tizio Di Caio Adesso non ce la fa più Perché non ce la fa più? Perché nel suo cuore Gli sente fratelli Più che fratelli E se anche qualcun altro Parla male di qualcun altro Sente un dolore nel suo cuore Perché colui di cui Si parla male Lui nel suo cuore Lo percepisce come fratello Benché Ha una madre diversa Per concludere dunque Questo insegnamento Con cui iniziamo L'anno nuovo Non dobbiamo Aver paura Di volere bene Agli altri Sono nostri fratelli L'amicizia E' una cosa bella Ma attenti però Perché in questa società Disgregata In questa società Senza valori forti Il motivo per cui io Posso cercare l'altro Non è l'altro Ma sono io La mia solitudine E allora Forza Lasciamoci riempire Dallo Spirito Santo Lasciamoci riempire Dall'amore di Dio Così che potremo Cercare l'altro Per l'altro Così che potremo Avere tanti amici Come fratelli Persone da amare Persone a cui dare Amore E non persone Che usiamo Per colmare Ilostrino Abbiamo intelligato Per l'altro Abbiam Grazie a tutti.